ciao ragazzi bentornati nel mio canale come vi avevo promesso vi faccio vedere il mio nuovo acquisto intanto vi saluto anche l'enu la sto ricaricando dai pannelli perché oggi c'è una splendida giornata stanno uscendo 2 kilowatt diciamo di corrente totalmente dai pannelli questo è il caricabatterie diciamo indica non so se si vede che stanno uscendo 10 ampere e siamo a 525 0,52 kilowatt ora di ricarica l'auto ora vi faccio vedere è innovata a 4 per cento quindi quasi carica questa è una renault zoe niente di particolare non è non è una tesla non è non è un porsche ma è una semplice renault zoe che oggi ho provato diciamo su strada extra urbana e diciamo che mi sta piacendo bisogna bisogna completamente cambiare lo stile di guida perché diciamo che più strattoni la macchina più logicamente consuma e si riduce la l'autonomia diciamo quindi un incentivo anche ad andare piano diciamo non avere una guida nervosa però vi dico che comunque mi sta piacendo un sacco questa questo nuovo questa nuova macchina oggi mi sono fermato alle colonine di ricarica di enel che stanno su diciamo in un centro commerciale che c'è qui in sardegna alla corte del sole diciamo che ho caricato più o meno un 20 25 26 kilowatt ora non ricordo bene non so se erano se sono arrivato a 29 ho avuto una spesa di 13 euro 13 euro e 80 aggiungendo un'autonomia di 280 chilometri quindi penso che con 13 euro di benzina non si fanno 280 chilometri sennò si metteranno un 5 litri di benzina con 13 euro ora non ho fatto bene il calcolo però ha un primo impatto penso che comunque a me penso che convenga questa macchina anche perché comunque se torno che c'è ancora il sole la metto un attimino in carica del tanto che magari avanza per avere il pieno e penso che non ci siano delle difficoltà da lunedì inizierò a utilizzarla per andare al lavoro quindi valuterò durante questa settimana quello che diciamo l'uso e perché no anche gli inconvenienti e diciamo le problematiche che si possano avere con l'utilizzo di un'auto elettrica spero di non essermi di non pentirmi di questa mia scelta ho voluto fare questa scelta azzardata perché ero curioso di vedere un po questo mondo intanto di là dentro c'è anche una smart benzina quindi male che vada utilizzerò quella quando mi trovo diciamo nei casini spero di non trovarmi mai però magari caricherò nella colonnina quando mi manca tanto e la rimanenza che utilizzo perché io faccio circa 60 chilometri al giorno la rimanenza che io spreco per fare questi 60 chilometri magari lo ricarico qua a casa con i pannelli ora vi faccio vedere il cavo che ho predisposto mi raccomando non preoccupatevi perché è volante quindi dovrò ancora posizionarlo bene eccolo qua questo è il cavo ho messo una presa industriale qui e sale su questa è ancora in carica e niente ora vediamo un po come mi troverò con questa diciamo con questa vettura vi farò sapere vi terrò aggiornati iscrivetevi al canale stasera penso che monterò in l'altro nei bilanciato reattivo che ho ricevuto nella seconda batteria iscrivetevi ci vediamo al prossimo video buona serata